Finché che io vado qui in Del, sono andata nella barca. La barca che tu non devi andare su una barca. Che vogliamo dire? Che San Nicola è la cosa più bella che abbiamo qui a Bari. Meravigliosa. Per l'occasione abbiamo preparato per l'equipaggio questa maglietta con un'immagine coreografica di San Nicola rivisitata in stile pop. Vediamo le famiglie dei marinai e dei volutuali. Copri con la tua protezione gli scafi che caldeggiano sulle acque e le dimore della terra. Cosa volete? Vino bianco rosso? Quante ragazze e frate col po' grosso? Non bere troppo che diverti il mostro? Me lo ripeto tipo ogni secolo. Se dovete cominciare le noccelle, qua, salsa merio, lo zio. Cosa andano, una osa, una osa, una osa. Cosa andano, una osa, una osa, una osa, una osa. Cosa andano, un sacco, una osa, un sacco, un sacco, una osa. Cosa andano, un sacco. Mi ha già di più, mi ha mai buon po' grosso. Manco da Bari da 15 anni comunque ho fatto molto, ho fatto molto, ho fatto da gigante. Abbiamo pagato 10 euro adesso la barca, devi sennermi i cuori. I affari per ora non vanno bene anche perché il tempo, per esempio, è perfetto. Tu ci fai come te, non è rimasta oltre dalla terra. Siamo arrivati alle 5 in chiesa, siamo andati tutti insieme sotto la cripta, abbiamo pregato tutti insieme, è stato bellissimo. Grazie a San Nicola perché ci sta portando avanti in tutti i sensi. La festa di San Nicola è più di tutte le feste, la gente di Bari è bellissima, perché con i parenti adesso si sa che non si vede quasi più, però il giorno di San Nicola, guardate, invito tutti i miei parenti che non sono di Bari vecchia e facciamo l'arrosto, è una festa grandissima. Noi San Nicola l'abbiamo proprio nel sangue, per noi è tutto San Nicola. Ciao Maria! Non sapete che dovete morire, comprate le pochette, non sapete che dovete morire, facciate le pochette! Arrivano dalla Russia, dalla Germania, dalla Grecia, perché San Nicola è un vero santo internazionale. Per il russo o per l'italiano? San Nicola ha una tradizione molto alta. Ora sto andando a incontrare uno che fa San Nicola in Svizzera e l'altro in Belgio, riesce a parlare un po' italiano, se vuoi sapere qualche cosa. Sono io. Benissimo. Vesita San Nicola. 10.87, sarebbe 10.87 quando sono in colma di due. Vendere la festa, 41 la processione e 55 la banca. si frapposta non volerà questo tipo un armi che lo chiama Geghardo. Grazie a tutti. Oggi c'erano due mari, un mare celeste e un mare multicolore di persone che stavano sopravvivendo. Saluta San Nicola che ci ha streppato. San Nicola unisce due mondi e anche due religioni, cioè la cattolica e l'ottodossa. Perciò io che, diciamo, questi anni che ho sempre interpretato San Nicola, mi ha aperto il cuore perché il mio cuore è dedicato alla pace, alla pace nel mondo. Ecco perché io lo faccio con entusiasmo, con gioia. Diciamo che lo faccio perché San Nicola è il mio protetto. Che stai preparando? La salciccia di canossa perché è bella e carnazza. Buonasera a tutti. È stata bella la giornata perché abbiamo voluto aprire le porte del nostro cuore, le porte della nostra città San Nicola. E San Nicola accolte il nostro invito. Vuole che questa città sia bella, luminosa, armoniosa. Siamo 300.000 stasera con tante persone che vengono da fuori, pellegrini, sindaci e delegazioni straniere. San Nicola ancora una volta è riuscito a fare un miracolo come ogni anno. Ci mette tutti insieme come se fossimo una grande famiglia. Viva Bari, viva i baresi e viva San Nicola! Viva Bari, viva i baresi e viva!